In questo video vedremo come inserire un qualunque tipo di documento dentro la mia area di lavoro di Active Inspire. L'operazione non è affatto diversa da quella che abbiamo visto nel video relativo all'inserimento delle immagini, però vedremo qui qualche esempio in più. Allora, innanzitutto la voce di menu che dovremo tenere in considerazione è naturalmente inserisci, quindi clicchiamo su inserisci e poi bisogna cominciare a fare pratica con questo termine multimediale perché Active Inspire non differenzia i tipi di oggetto che si possono inserire, quindi non troveremo mai nel menu inserisci file Excel, file Word, file MP3, file PDF. Semplicemente il programma, e questo semplifica notevolmente il lavoro, chiama multimediale un qualunque oggetto. Ora quindi proviamo ad inserire alcuni oggetti, in particolare dei file Excel o i file anche Word. Quindi inserisci multimediale, a quel punto si apre una cartella nella quale io ho i miei lavori o comunque una interfaccia tramite la quale posso trovare tutti i miei file nel mio computer. Ecco per esempio qui ho un file .docx, vale a dire effettuato con Word. Clicco, ecco qua che è presente il mio file Word. Mi accorgo che è un file funzionante perché ponendo sopra il mouse viene fuori il logo di azione, che è una sorta di play bianco su uno sfondo circolare azzurro, cliccando il quale appunto si aprirà il mio file Word. Oppure inserisci multimediale, foglio di lavoro Excel. Clicco, ecco qua che compare il mio foglio di lavoro Excel. Oppure multimediale, stavolta proviamo con una presentazione Open Office, quindi non Microsoft. Ecco qui che è presente il mio file di lavoro di Open Office. Da questi pochi esempi io posso notare una caratteristica e cioè a dire che tutti i file che io inserisco sono individuati dall'icona del programma che li apre. Questa è l'icona di Word nel mio PC, questa è l'icona di Excel e questa è l'icona del file di Open Office. Compaiono con l'icona solo e soltanto se la macchina, se il computer che li ha inseriti ha installato al suo interno dei programmi che possono aprire quei file, altrimenti i file vengono comunque inseriti ma avranno un'icona bianca. Come dire che il computer che li ha inseriti non è in grado di aprirli ma magari è in grado un altro computer nel quale io andrò ad aprirli. Posso continuare con gli esempi, vediamo inserisci multimediale, posso inserire addirittura una cartella compressa, ecco qua, e avrà la classica icona del file con una zip. Poi posso inserire, ecco qui, per esempio un file PDF, eccolo qua, e comparirà appunto l'icona PDF. Oppure, ed è molto utile per chi insegna le lingue, inserire un file audio, tipicamente un mp3. Inserisci, multimediale, ecco qua, mp3. Io in questo caso ho scelto una canzone di Lucio Battisti, cliccando sull'icona si apre il programma che in quello determinato PC apre i file mp3 e il file inizia a aprirsi. Vediamo qua, ecco qua. Qui vediamo un semplicissimo player musicale dove c'è il testo, il titolo del file e poi anche un indicatore del volume. Questo indicatore indica naturalmente il progresso del file nel tempo, nei minuti. Ecco, tramite quindi questa funzione noi abbiamo visto tutto l'inserimento dei documenti. In conclusione possiamo dire quindi che Active Inspire è in grado di inserire qualunque cosa al suo interno e a patto che il computer poi sia in grado di aprirli. Nel caso in cui, ripeto ancora, dovessimo inserire dei file che il computer che inserisce non è in grado di aprire, i file verranno comunque inseriti nel mio foglio di lavoro, tuttavia la macchina non sarà in grado di aprirli. Però magari io posso salvare questo lavoro in una pendrive, riaprirlo in un computer dove è presente un programma in grado di aprirli e aprirli tranquillamente.